Se stai pensando di diventare docente di sostegno, un lavoro impegnativo ma ricco di soddisfazioni, in questo video ti fornirò una serie di informazioni relative al prossimo corso di specializzazione nell'insegnamento delle attività di sostegno. Il titolo di specializzazione è un requisito indispensabile per l'immissione in ruolo, o meglio a tempo indeterminato, ma costituisce anche un titolo preferenziale per le supplenze su posto di sostegno. In questo periodo ci sono pervenute diverse richieste da parte vostra sulla prossima edizione del corso e su come prepararsi al meglio. Colgo l'occasione per salutare in particolare Flavia e Roberto che ci hanno sollecitato in tal senso. Abbiamo deciso di rispondere subito a queste vostre richieste per ottimizzare al meglio il tempo a disposizione, come vedremo subito dopo la sigla. Ben ritrovati e benvenuti su Diversi Tutti, il canale che promuove culture inclusive e risorse per la didattica. In questo video cercheremo di fare chiarezza su alcuni dubbi circa i tempi e le notizie riguardo alla prossima edizione del corso di specializzazione nell'insegnamento delle attività di sostegno. Se vuoi ricevere notizie circa le nuove iniziative su cui stiamo lavorando rivolte proprio agli aspiranti docenti di sostegno, allora iscriviti subito a Diversi Tutti, trovi il link qui in descrizione. Mi chiamo Maria Teodolinda Saturno e se sei per la prima volta su questo canale devi sapere che sono un'insegnante di sostegno e che collaboro come docente a contratto con diverse università ed enti per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. Se vuoi saperne di più sulle mie pubblicazioni dai un'occhiata al link che trovi qui in descrizione. Cominciamo subito con il primo quesito. Quando uscirà il bando del prossimo corso di specializzazione nell'insegnamento delle attività di sostegno? Intanto chiariamo che il bando è su base annuale e non semestrale come qualcuno di voi ha sentito vociferare. Il prossimo bando emesso dalle singole università non potrà uscire prima della conclusione del ciclo in atto, il sesto ciclo. Attualmente, cioè nel momento in cui stiamo registrando, si stanno per concludere le fasi di selezione. Ma quando è prevista quindi la fine di questo sesto ciclo in atto? Esattamente entro luglio 2022. Questo significa che l'uscita dei prossimi bandi da parte delle università è prevista intorno ad agosto 2022. Avrete quindi poco meno di un anno per prepararvi se cominciate da subito. Ora un anno è poco o tanto. Dipende da una serie di fattori che andremo a vedere meglio in uno dei prossimi video, dedicato proprio alle difficoltà nella preparazione del TFA di sostegno. Il secondo quesito che ci avete posto è quale percorso di specializzazione si prevede per il 2022. Si tratta di un TFA, di un FIT o di cos'altro? Per saperlo con precisione dovremo attendere un apposito decreto ministeriale, con tutte le indicazioni specifiche, che verrà emanato prima della conclusione di questo ciclo. Indicazioni su cui è difficile fare delle previsioni, diciamo che abbastanza aleatorio, perché come forse saprete le politiche scolastiche, e non solo quelle, cambiano, si modificano continuamente. Mi sento di dirvi, prima di vedere nel dettaglio qual è la situazione attuale dal punto di vista anche normativo, che è abbastanza plausibile l'avvio di ulteriori tre cicli di TFA. Qualora però ci dovessero essere delle modifiche, delle novità, vi terremo informati anche attraverso la nostra newsletter che riceverete se appunto siete iscritti a diversi tutti, lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione. Intanto facciamo il punto della situazione. Per quanto riguarda il FIT che ci avete chiesto, quindi il percorso triannale di formazione iniziale e tirocinio previsto per il reclutamento dei nuovi insegnanti dal decreto legislativo 59 del 2017, questo è stato sostituito da una legge di bilancio e fino a nuove disposizioni da un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Anche l'emanazione del regolamento di revisione dei percorsi di specializzazione per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, previsto dal decreto legislativo 66 del 2017, non è andata a buon fine. Pertanto attualmente le disposizioni in vigore in materia di corsi di specializzazione sul sostegno restano quelle precedenti ai decreti legislativi relativi alla legge 107 del 2015, la cosiddetta legge sulla buona scuola. La novità degna di nota è quella che è stata prevista nello scorso giugno su cui abbiamo dedicato un video, potete trovarlo qui ma anche alla fine di questo fra i preferiti, ovvero l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ben 90.000 posti per il prossimo triennio accademico 2021-2024, ovvero a partire dal 2022. È una notizia importante perché questi posti sono più del doppio di quelli previsti, 40.000, nel precedente triennio accademico. Si tratta quindi di un'opportunità fondamentale per chi veramente sia motivato ad intraprendere questa professione. Nessuna scusante quindi per chi abbia un'autentica motivazione. Se non hai ancora indagato in maniera profonda sulle tue motivazioni, allora ti suggerisco di guardare i video consigliati da diversi tutti alla fine di questo, ti saranno sicuramente utili. Se invece hai già preso la tua decisione, allora non aspettare altro tempo. Iscriviti subito al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Presto infatti ci saranno nuovi contenuti interessanti per te e se hai trovato utile questo video mi raccomando lascia un like e condividilo con persone interessate. Grazie per l'attenzione e se hai seguito il video fino a qui faccelo sapere nei commenti inserendo un emotico relativa al tema viaggio. Un caro saluto a tutti e alla prossima!